Saluta, salutate? Ciao, sono Brego92 Lo conoscete, immagino Gianluca, presenta questo video Chi è Gianluca? Nessuno lo sapeva Non lo sapevi chi è Gianluca? Va bene, mi avete sgamato Va bene, dai, ero io Allora, oggi in questa puntata proviamo a registrare una partita a Stone Age su Board Game Arena Sperando che... Una domanda prima di iniziare Sì, tutti ci sappiamo Si possono fare i rutti Si possono fare, io penso per il pubblico si possono fare i rutti si possono fare le sconegge si può bere e mangiare io mi potrete vedere anche smangiucchiare Non bestemmi e insulti non razzisti Per il resto tutto è lecito Tocca a Dino Demon Non andiamo oltre Conoscete, spero, Stone Age, il gioco se non dovete recuperarlo perché è un titolone e io inizio con la prima mossa che chiaramente è andare a prendersi il grano Ammonde Guarda caso Guarda, guarda caso è un classico vabbè ok, e io qui non ci posso andare grazie grazie a tutti vabbè brego dai mo è una ruota che gira dai mo come faccio è una giostra che va tocca a me vabbè mo perché vai a fare legno per poter me esatto non posso andare a copolare non posso fare niente non posso andare a copolare ma anche in tre giocatori soltanto due minici questa round sai che vi dico date a fare il grano subito primo round me la rischio e perché non farlo dai brega non mandato io allora specifichiamo abbiamo messo una partita a turni io sconsigliato proprio doveva essere in tempo reale e così ci avevamo 45 secondi per farlo giocare a turnica dai brega non andai a due dai brega vabbè io non sto a giocare più sto a giocare solo loro sto a giocare vi sembra giusto? allora io mi riprendo l'omino così a momento mi riprendo questo e vediamo quanto ho fatto importante sono a posto sono nettamente a posto che culo che culo è classe Gianluca è classe sono a posto ci sono a posto vabbè che è tutto contro di te ma che cazzo veramente ma veramente ma vabbè dai sono a posto grazie hai fatto un turno a vuoto Gianluca che ha fatto io sono una persona io sono una persona l'hai piazzata giù devo dire questo pagano pagano almeno ho pagato ho pagato brago mandando toccati tu devi piazzare alcune persone intanto chiudo la porta così non sentite il cane abbagliare se dovesse abbagliare brago devi piazzare attenzione è una giostra che va io mi piazzo piccaciulli guarda io direi interessante questa mano perché mi piazzo uno qui è una giostra che va ma dite la verità quanto sono bello col piccaciulli perché io sono semplicemente un piccaciobeso niente di più allora io dovrei piazzare quanti o minimi sono rimasti intanto facciamo che mi accoppio questo luogo non è disponibile stiamo giocando in tre hai ragione hai ragione hai ragione stai calmo stai calmo allora due o tre tre due tre tre perché io mi sento un po' Gianluca sto giro allora volano bestemmie importante ruolistiche importante sono a posto così lei che è molto gentile allora mentre voi vedete il video potete già nei commenti scommettere chi vince la partita vabbè è palese è palese uno che comincia ritirando quattromini è sbagliato è palifico esatto siamo a gioco online mo la mostra ancora anzi poi non è come a casa non so come funziona se qualcuno conosce brecocca e vi sto guardando in video insultatelo nei commenti vabbè vabbè dai eccoci è così oggi il gioco è così e io e io guarda come sfido la sorte non ritiro manco il lavoratore prima faccio l'oro a sbeffeggio ebbè però questo non so riprendo l'omino allora paghiamo con due legni questo e brecocca deve posizionare brecocca perché 992 perché 92 breco normale era non era ci avrei già altri 7 account e manco no sei sempre tu che ti scaldi la pasta no mi domandavo se l'altro 9 aveva un significato eh 1992 92 ah ok ma senza vabbè posso fare la mossa tu lì non ci devi andare mannaggia eh mo mi stia a rubare la mossa perché mi stia a rubare la mossa chi è il giallo? giallo nessuno è il giallo oro chi è il rosso? che io esatto esatto allora io io quello che è andato a prendere quello comunista ma quello comunista starò a polla io ci provo oh no non ho da da mangiare da dare da mangiare alla gente lo metterò almeno sai dove metterlo per farlo mangiare sai dove metterlo infatti vada ce ne metti uno ti capita sicuro sei vai tranquillo sì ho già due volte uno sono scegli io rischio tutto qui guarda come mi sento tosto e con quei due becco tre legni tocca a Dino a me no 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 tocca a Brego a Brego potete contattare il server se hai connesso attenzione attenzione qui ci crasha mentre registriamo perché come dovete sapere purtroppo board game arena è sotto carico pesante prova mi sta andando lentissima ma ma non sto a vedere le mosse due a Brego quindi ci sta un po' di ritardo allora ritiriamolo c'è anche una sezione che ti porta direttamente a Melodice ah sì impossibile contattare il server sei connesso ragazzi penso che mi sia saltata la connessione attenzione io sto facendo gioco ora è il tuo turno a Stone Age alt sto rientrando eccomi guarda un po' ecco là l'ho ritirato è fatta è fatta è una passeggiata ragazzi state tranquilli guarda ci metteremo 6 giorni a me me ne servono 3 però quindi io ci gioco questo e sono a posto poi dopo di che mi vado a ritirare lui pagando però giallo che non è connesso e poi ritiro lui e quindi adesso posso crashare perché sta 12 punti ho vinto adesso non so connesso io si è collegato si è collegato è il tuo turno a Stone Age vado vai vado ecco la magia dell'editing Gianluca attacca a te si va bene ci sta bene va bene ma l'attrezzo ma l'attrezzo usalo che lo so a fare l'attrezzo parlo quale sarebbe eh vabbè ti mi insegna tutto devi sezionare risorse selezionate te l'hanno ricacciato ah no fai 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 ci sbagliamo eh sta giocando ragazzi non vedo poi sta giocando un altro gioco state calmi non ci sbagliamo se ci sbagliamo è un casino allora io ho 5 omini quanto mi serve di cibo 5 uno ti serve uno di queste sono a posto così uno quindi a mangiare il legno e se no 10 punti vittoria passa la paura sono a posto così tu devi piazzare allora io nel dubbio fare sempre sempre coppe si fa si però io non ci posso non posso giocare tu spagone giallo che se devi posizionare dai giallo vatti apia gli attrezzi bravo 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 bregocca che fa come vuol dire al monte vai fai il cibo vai fai il cibo vai fai il cibo vai fai il cibo bregocca te serve bregocca in aggiornamento bregocca in aggiornamento 3 conferma ah tu devi piazzare aspetta no a nulla qua a nulla eh non si abbia giù stiamo registrando male educato no male educato dai prego bravo vabbè bregocca perde tempo oh no guarda che se a me mi va in aggiornamento io non posso fare niente basta comunque avanzamento della avete vedete bene 13% adesso mi metto tutto schermo ritiro il mio operaio e i miei tre legni trese nove e noi lo facciamo diventare dolci allora cinque legni tre li devo spendere qui e due mi servono per dare a mangiare quello che quell'oro mi sta qui mi stava purtroppo me lo devo lasciare ah ok vabbè lo scelgo io l'oro io non so che scegli quindi quindi io devo sfamare due omini uno ce l'ho uno gli do un legno e se magna il legno bravo magna sì va bene no quindi se faccio così così bene non sono stentando ce ne abbiamo troppo cos'altro dagli da mangiare queste povere gente e va bene così e va bene così senza il cibo fatimo faccio noi ci prendiamo una bella pietra ma riprendo un legno tanto lo devo dare a mangiare perfetto grazie dai 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 che mo qua mi salvi la vita ma che prego ma che so io dai 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 come fai non sono scelta dal 1900 ragazzi io l'avevo detto potete scrivere i commenti chi vinceva ma dai è già scritto chi vince vabbè dai a posto mi sono guadagnato un legno tristezza perché tristezza ma perché non ci voglio di posizionare le cose no ho sbagliato che culo lo volevo io quello allora io mi farei così quasi ecco il punto va bene va bene ci imparate con i vostri andiamo guarda voi voi vi immaginate sti poveretti si mangiano la legna la pietra l'oro ma secondo me non è che si mangiano la legna dai vanno a barattare la legna è vero tu sei intelligente come la carta dei comunisti non è una carta dei comunisti esatto esatto non so con voi come la chiamate giochiamo a questo gioco da ormai un po' tre anni due anni e la chiamiamo la carta dei comunisti cioè io tiro un dato per tutti io prendo una cosa sono il primo a prendere quello che vi rimane ve lo spartite voi per noi è la carta dei comunisti o brecocca facci vedere quanti legni tutti se riprende allora voi avete fatto l'amore un lusso questo utensile è stato già utilizzato calma ho cliccato male non da citare breco deve fare alcune mosse dai breco non perde tempo vabbè questa è chiamata io proseguo facciamo una partita diverso sofferenza diverso porca puttana vabbè dai mi piace mi piace mi piace ui c'è bisogno dell'oro a gamba tesa anche perché un oro me lo dà sicuramente brecocca me lo dà con la con brecocca fa tipo utensile grano e oro e a me mi divane l'oro tranquillamente io do ciao tocca a me ho sbagliato sette volte la mossa sette volte gli dicevano abbiamo perché mi stia rubata la carta la prossima volta non ci vai sul d'oro già già c'avevi una risposta pronta prima che finiva a parlare ma che cose sono così imprevedibile quando me ne mancano di omini due se ti dico mi sento fortunato con un dizio solo che deve andare a far la linea guarda il 6 3 1 non scherzo vabbè brecocca questo è un tiro triste io qui aspettavo un oro da parte tua e invece mi devo accontentare non lo vedi che sta tirando guarda più alto del 3 non riesco a tirare i dati tuoi sono fallati non c'hanno solo non lo so 6 12 e facciamo diventare un bel 18 allora io sai che faccio e giro le risorse se vuoi puoi tirare gli attrezzi esatto vabbè ma dici a lamentare io sono ultimo cioè che gioco è mi avete lasciato ultimo non mi fate giocare guarda che ci vuoi di ah 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 preciso guarda stava non piange più un piangio e mezza partita avete ragione a chi dite? altri 7 turni esatto buco buco allora ti stessi hai due risorse una e due buco scusate se mi intrometto non voglio farmi cazzi di nessuno ma c'è un topone sulla caccia sembra come una giovane ma guarda che canzone eh? era 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 la canzone di coso di Pieraccioni in un film qui no ma invece si facciamo una partita diversa certo non lo volevo prendere io ma sono sbagliato porco dici cane ma a me manca anche tanto tanto di india a chi lo dici io voglio andare avanti con due avventure noi abbiamo due avventure e andavanti io ho aggiunto dieci pagine aggiunto solo avventura oh però brego dai vabbè quando ci devi pensare devi mettere c'hai tre mosse eh c'è 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 se finisce così lui mi sta bene chi avrebbe vinto? da Luga da Luga a Bommonte eh lagga un pochetto eh ragazzi ci sto mettendo un pochino cambiate tanta tanta pazienza ah io F5 non lo prendo no no mi dice aggiornamento vedi il ritiro eh allora a 6 12 a 12 tutti e 3 tutti e 3 ma c'era si vince coi punti vittoria come dice qualcuno ciao Claudio poi scopriamo se i miei amici mangeranno e mangi si fa banchetto stasera ragazzi dai su metti le sosse 5 ori non si prendi questo non si registra poi facciamo questo non si registra nuovo modi me crash amo è uguale adesso sono a posto e poi mi fai ritirare questo due risorse devo usare con la carta compreso nomi dalle la possibilità di prendere due risorse non lo so non ho visto la carta scusate quando ti pare quando vuoi pagare te le fa pagare dai 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 che momi ferite fai che momi ferite lascia solo dai lascia messa mi sa di no dai quando mi dai non ci si può comprare io un oro un oro per un oro sai che faccio guarda che ok prenderò la regina ma già ce l'hai sta carta il simbolo già ce l'hai attenzione di stacca cosa quando la legate a parte quello ma cinque con un dizio mi prendo 55 cibi e ci fai con la gente che cazzo vuoi sentite i cambi di strategia un vero giocatore è così ma tanto ha vinto ha vinto ciascuno ha già vinto già tocchiamo a mezza partita avanzamento 50 per cento abbiamo registrato 38 minuti quindi allora comunque questo è un tavolo molto 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 tossico cioè loro si lamentano che non riescono ad andare sui capanni sulla capanna dell'amore io non riesco ad andare sui capanni sulla capanna dell'amore io non riesco ad andare sulle carte non riesco ad abicinammi ci facciamo così arriviamo a 2 eh però non lo devi mettere si ma si è mostro registrato ma se non lo metti mi arregni eh però noi già c'è arrivato allora 12 eh 3 allora non possiamo mettere a nessuna parte e quindi lo siamo giusto se ne faccio pensate poi ci prendiamo questi cibi qui vediamo in questo che mi ha dato? è andato un altro sciuffoletto un altro sciuffoletto ah però non ti dà il beneficio di quella carta che prendi giustamente allora 3 6 9 12 quindi 18 e noi facciamo ed uno si possono fare pure più 7 no ho sbagliato si 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 può fare più 7 prego deve posizionare ecco vedi guarda guarda proprio no in aggiornamento eh vabbè no ci sei infatti fatti fatti è fatta come disse qualcuno ok 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 ah però dopo non posso nemmeno già te lo hai giocato solo? Ah, ti devi giocare da solo? Ahahahahah Oh no, mi tocca Bregò che vada in bolla Devi usare le persone Bregò, usa le tue persone, dai! Vabbè dai, vabbè Basta che facevo quattro eh, cioè quattro dovevo fare Usa i lavoratori Vabbè dai, quattro dovevo fare, dai Attivali no? Ma perché non li attivi? No no, guarda questo dai Vabbè, attiva Va bene, va bene E' comunque la media, se mi posso permettere è comunque la media Sì ho capito, vabbè dai Sì, lasco la media Attivali Allora, sei, dodici, diciotto A casa mia non ci arrivo, quindi sono a porca Non ci arrivi per uno Però tu attivali Però tu attivali, comunque, fa sempre bene attivarli Vabbè, oh, quando vincete me lo dite? Ma hai già vinto esatto tu Ah, avete già vinto esatto? Ah, ora avete già vinto esatto No, perché i buazzetti mesi sono... Un buon apatici, capito? Non voglio di lavorare, non voglio di fare niente Un buon apatici all'urto Eh, non c'hanno voglia di fare niente Avete appena sentito un messaggio Whatsapp? Quindi andrò a chiudere Whatsapp Eh, non posso pagare Ammonte Tocca a me piazzare Giusto? Eh, no Una cosa non devo vivere Amico, ehm No Una cosa sola No, no, no Non scherziamo Ma una missione posso prendere Una volta son primo giocatore fammela capà Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Nooo Vabbè, ma io a che gioco sto giocando Fatemi capì Beh, ah, 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 a capi Vabbè, vabbè Mi d'abbè Mi d'abbè Ah, 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 ah Allora Cosa ha 20 Ah 20 è importante Fuscia che ti mi aglendessi Beh Ah, ah ah Ah, ah, ah ah questo cibo deve basta fino a fine partita allora paghiamo due risorse paghiamo quattro risorse 67 per cento della partita si va e si vola si sente come si ritirano i lavoratori come si bacchettano io c'ho la tribù con i denti tutti sfasciati hanno mangiato più legno e piede di loro vabbè però alcuni giocatori devono nutrire le proprie persone stavate parlando di me? stavate parlando di me? mo paga un oro per nutrire la personaggio a lui è tosta comincia a farsi pesante effettivamente ah però mi fate gioca e io la faccio di questa cosa e no è bello attenzione faccio le mosse quando è finita la partita ma come? eccoci posso tagliare? e beh uno mino ce lo puoi mettere? eh sì sì e poi quanti zonni fa? e c5 e poi te lo faccio vedere io beh no no e allora facciamo così te lo faccio vedere io te lo faccio vedere Bricocca Bricocca sta ufficialmente facendo il bifido 22 punti dall'inizio della partita sta a fare milioni di punti con le carte sta facendo no 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 non è vero sto a fa schifo perché se tu ci hai fatto caso ho tirato quando tiravo a prendere le risorse sempre poco quindi non potevo fa un cazzo è che sono stato bloccato 2-3 turni sicuro eh quale staffa punti con le carte è Gianluca non sembra a me Gianluca soprattutto quei simboli del cavolo io? beh sì ce n'hai pure ce n'hai no no io li stavo a puntare ma non ci posso mai arrivare ce ne avrai almeno 5-6 che sarebbero quanti punti andiamo a vedere non me li fa vedere niente di che perché non me li fa vedere che strazismo i simboli una cinquantina di punti una volta te lo facevo vedere ma non mi ricordo come si fa non mi ricordo io vabbè però 30 punti ce no la risata di satana allora io partirei da un semplicissimo prendo questo lo pago con due legni e spero di fare due legni e ne ho fatti due perfetto quindi una carta gratuita abbottante poi ritiriamo tutto quello che abbiamo e a casa mia 21 più 3 fa 24 quindi me la biondo il culo sono a posto sto pensando time a te nooo brioca infame eeeh ma c'è una ribalta delle cose per tesolo lame brioca infame dove è me? state a 8000 carte guarda chi è quello ti notiamo 6 carte 6 cosette gli obiettivi allora io vado con la giocata del secolo uno mino lo piazzo sull'oro un solo mino che se mi caccia un oro boh basta che ti caccia un dream brand si no un 2 questo ce lo prendiamo e la madonna che ce la fa tutta questa legna ci devi comprare le prossime 72 carte non lo so vi do un po' di rocco no la roba interessante io mi prendo le gilla oh questo volevo spam questo volevo tranquillo comunque quando tiro io questo è sempre ma state tranquilli io non lo so ti arriva sempre che bello questo gioco ma che veramente mi sarebbe preoccupato di me pregocca è controllabilissimo sto gioco stai tranquillo conferma 113 gioco più controllabile del mondo esatto ok ok e andiamo a tirarci l'oro basta uno 4 8 12 e 3 fa e 3 e a posto si torna a casa lo riprende c'avevi 3 c'avevi no no era 4 il rapporto della cilla stavo 12 12 più 4 12 più 3 fa 15 è sicuro che era 4 mi sembrava 4 4 e 4 se ho sbagliato ho fatto la gatta ti pareva allora vabbè così intanto ce ne prendiamo io confido voglio vedere se arriviamo due grani esatto infatti confido tutto in tre grani adesso ci vorrebbero tre grani vabbè vabbè so scarico sono pronto ti convinti che li posso pagare eh non lo so eh si anamà dopo c'è pure l'oro per pagare loro me lo consumo qua eh e allora eh sì attenzione per poco per poco attenzione perché potrebbe prendere una tecnologia stiamo attenti eh ma a me ma arriva comunque la legna a te d'arriva a te d'arriva il legno a me mi farebbe comodo perché a me tecnologia mi fa come tutte tue è indifferente ma questa tecnologia ti lascio il grano grazie lo prendo subito allora tu devi piazzare signor Sauro ho visto le tre carte giù sotto e ho detto ok fammi vedere che risorse fa fallova vai vai fammi vedere che risorse c'ho 0 0 0 e che ci faccio con questo adesso vi faccio fare punti a voi scelta obbligata 81% sta per finire la partita chi sta vedendo il video già sta guardando quale mossa faccio e la mia mossa non la posso fare allora vediamo facciamoci un conteggio rapido il conteggio riporta i tonti tornano allora iniziamo dalle più facili 1 e 2 intanto non c'è nient'altro quindi vado di questo 3, 6, 9, 12 e facciamo un 15 1, 2 e ritiriamo a voi attenzione finita partita mannaggia scusate anche qui non mi riporta però 8 alla seconda più 2 alla seconda 8 per 8 quanto fa? va bene volete registrare qualcos'altro? volete registrare un un kingdom domino cod 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 dopo scena si ragazzi io vi aspetto vi saluto 3,9 è arrivato secondo quando pensavo ad arrivare terzo e io pure ero convinto di arrivare secondo invece sono arrivato terzo qualcosa che non ti sa e vabbè c'è andata però ho fatto la partita alternativa ho dato a mangiare sempre legno non ho fatto scocco a nessuno è una partita con un sentimento esatto i tuoi sei venuto a fare nel legno dal bosco mio però se vi piace questo video se vi piace il fatto che cazzeggiamo su su Bodine e Marena ne faremo altri va bene? se no li facciamo lo stesso esatto perché potremo trovarci gusto noi detto questo Gianluca vai con ricapitolo finale se il video vi è piaciuto mettete un like qualora non vi fosse piaciuto lo condividete no fate il dislike con le mani stava a fa se vi è piaciuto e avete messo comunque il dislike commentate spiegateci il perché della vostra scelta esatto al di là dell'audio flusci di fondo problemi esatto se non siete iscritti al nostro canale siete capitati per caso in questo video scappate perché siete ancora in tempo però se potete iscrivetevi e poi prima di scappare poi una volta che vi siete iscritti attivate la campanella scappate e noi vi rincorremo esatto verrà brecocca vestito da infermiere è una cosa è una cosa orribile vabbè dai ciao 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 ciao